Comincerà formalmente domani il divorzio di Londra dall'Unione Europea. L'ambasciatore britannico Aloué, Tim Barrow, consegnerà personalmente al Presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, la lettera con cui il Regno Unito ufficializzerà la sua intenzione di uscire dal blocco. Da quel momento comincerà il conto alla rovescia per il divorzio, previsto per il 29 marzo 2019, al termine dei due anni di negoziato. Sempre domani la Premier britannica, Theresa May, andrà in Parlamento per informare i deputati che il Regno Unito ha invocato l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, quello che definisce le modalità di uscita di un paese dall'Unione. Tusk dovrebbe fare una breve dichiarazione per confermare di aver ricevuto la notifica e subito dopo far circolare tra i 27 membri dell'UE una bozza delle direttrici per il negoziato con il Regno Unito, direttrici che saranno adottate formalmente nel vertice straordinario del 29 aprile a Bruxelles.